Non puoi fare la pipì in un luogo pubblico! Sono 9 euro di multa! Ok, allora prenda 10, perché nel frattempo ho fatto pure una scoreggia! Ti amo doppiamente! Sono biscotto di te! Scusa, arriveremo tardi alla festa! Giulia si sta truccando! Ma la festa è domani! Appunto! Mi presteresti quel magazine? No, devo finire di guardarlo per la seconda volta! Due volte? Perché? È una rivista! Sono affaticato, ma grazie al suo consiglio di saltare i pasti sono dimagrito! Bene, ma cos'è che l'ha affaticata così tanto? Il digiuno? No, il saltare! Smettila di guardarmi! Non ti sto guardando, ti sto squadrando! Mi hanno detto che hai un bel fondoschiena! Eh sì, modestamente ho un sedere a mandolino! Io e te, siamo sorelle! Se cadi, io ti rialzerò! Appena avrò finito di ridere! Guarda, un attore di Hollywood! Mio papà mi ha mandato un audio! E io gli ho scritto che non potevo ascoltare! E lui mi ha mandato un altro audio! E io gli ho riscritto che non potevo ascoltare! E lui mi ha mandato un altro audio! Alla fine l'hai ascoltato? Sì! E cosa diceva? Che non aveva gli occhiali e non riusciva a leggere! Gesù, mi presti 100 euro? No! Dai, ti prego! Wow! Lavori per la televisione? Sì! Ancora 20 rate e finisco di pagarla! Andiamo al concerto stasera? No! L'hanno annullato! Cavolo! Rimango sconcertato! Tesoro, vedi quell'uomo ubriaco? Sì, perché? Venti anni fa mi chiese di sposarlo e rifiutai! Cavolo, ancora sta festeggiando! Traducimi, non frequentare il signor Jackson! Michael Jackson! Mia moglie è incinta, ma io sono stato molto attento! Com'è possibile? Vede, è come nel traffico! Non basta stare attenti per sé! Occorre che lo siano anche gli altri! Non puoi fare la pipì in un luogo pubblico! Sono 9 euro di multa! Ok, allora prenda 10! Perché nel frattempo ho fatto pure una scoreggia! Ti amo doppiamente! Sono biscotto di te! Scusa, arriveremo tardi alla festa! Giulia si sta truccando! Ma la festa è domani! Appunto! Mi presteresti quel magazine? No, devo finire di guardarlo per la seconda volta! Due volte? Perché? È una rivista! Sono affaticato, ma grazie al suo consiglio di saltare i pasti sono dimagrito! Bene, ma cos'è che l'ha affaticata così tanto? Il digiuno? No, il saltare! Smettila di guardarmi! Non ti sto guardando! Ti sto squadrando! Mi hanno detto che hai un bel fondoschiena! Eh sì! Modestamente ho un sedere a mandolino! Io e te siamo sorelle! Se cadi, io ti rialzerò! Appena avrò finito di ridere! Guarda, un attore di Hollywood! Mio papà mi ha mandato un audio! E io gli ho scritto che non potevo ascoltare! E lui mi ha mandato un altro audio! E io gli ho riscritto che non potevo ascoltare! E lui mi ha mandato un altro audio! Alla fine l'hai ascoltato? Sì! E cosa diceva? Che non aveva gli occhiali e non riusciva a leggere! Gesù, mi presti 100 euro? No! Dai, ti prego! Wow! Lavori per la televisione? Sì! Ancora 20 rate e finisco di pagarla! Andiamo al concerto stasera? No, l'hanno annullato! Cavolo! Rimango sconcertato! Tesoro, vedi quell'uomo ubriaco? Sì, perché? Venti anni fa mi chiese di sposarlo e rifiutai! Cavolo, ancora sta festeggiando! Traducimi, non frequentare il signor Jackson! Michael Jackson! Mia moglie è incinta, ma io sono stato molto attento! Com'è possibile? Vede, è come nel traffico! Non basta stare attenti per sé! Occorre che lo siano anche gli altri! Gesù, mi presti 100 euro? No! Dai, ti prego! Wow! Lavori per la televisione? Sì! Ancora 20 rate e finisco di pagarla! Andiamo al concerto stasera? No, l'hanno annullato! Cavolo! Rimango sconcertato! Tesoro, vedi quell'uomo ubriaco? Sì, perché? Venti anni fa mi chiese di sposarlo e rifiutai! Cavolo, ancora sta festeggiando! Traducimi, non frequentare il signor Jackson! Michael Jackson! Mia moglie è incinta, ma io sono stato molto attento! Com'è possibile? Vede, è come nel traffico! Non basta stare attenti per sé! Occorre che lo siano anche gli altri! Questa è una cosa che si tratta di più 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 Grazie a tutti